Un servizio al Papa e alla città di Roma, inaugurati i nuovi locali dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, messi a disposizione in comodato gratuito dall'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Da più di 75 anni gli agenti dell'Ispettorato di Polizia di Via del Mascherino sono gli angeli custodi dei pontefici, ma anche di fedeli e turisti, vigilano su Piazza San Pietro e accompagnano il Papa negli spostamenti in Italia, ma svolgono anche attività amministrativa, più di 10.000 permessi di soggiorno rilasciati nell'ultimo anno a religiosi, seminaristi e prelati. Per questo si sono resi necessari i nuovi uffici inaugurati dal presidente dell'Apsa, Nunzio Galantino, alla presenza del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, del questore Mario della Cioppa e del comandante della Polizia di Roma Capitale, Ugo Angeloni. Un lavoro scuro, silenzioso, che però consente di accrescere significativamente la qualità dei rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato città del Vaticano.